Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo, 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, e singoli, fianchi, 1, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccellente, e passiamo sul prossimo esercizio. Altro esercizio, incrocia una gamba sopra l'altra, ok? e solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi e chiudiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco a poco perché c'ho un sasso sotto la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ottimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e cambio lato, ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo, 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ottimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ottimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale. Allora facciamo la prima plancia, allora posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora tiro su gli abdominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdominale, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, ok? Continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok? Continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli abdominali belli, tesi, 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 ok? Ci siamo, saranno l'ultima. 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, in avanti, tiro, abdominali tesi, una bella torsione, in avanti, ancora, tiro in avanti, ah sì, ok? Siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, per il minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai 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 vai, abdominali tesi, senti il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora, 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio, andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok? Minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok? Porto in avanti, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori all'abdominale è di dare il meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare, chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome, sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rasoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piacciono le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza strassare il collo e la schiena, continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, 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 spingo in avanti, spingo in avanti, tira, tira, ultime dieci secondi, vai, 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 dieci, ancora, e l'ultimo cinque, quattro, tre, due, uno, and relax, passiamo sul prossimo esercizio. Grazie a tutti.